Una giornata dedicata ai valori dello sport e della solidarietà. Torna domani 2 luglio l'appuntamento con il trofeo di nuoto Città di Pineto, giunto alla sua quindicesima edizione. Questo traguardo importante lo si deve anche al gruppo Spatangus, che nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia non si è arresa, portando avanti questo progetto. Infatti, come tutti gli anni, il ricavato della manifestazione al netto delle spese sarà devoluto all'associazione Insieme, oltre le onde, per la ricerca e la lotta all'artresia delle vie biliari malattia rara neonatale. Questo è il tono e le bracciate di tutti i nostri nuotatori saranno in favore di questa associazione. Oltre questo ci sarà anche il Crucilibro, che è sempre la parte meno sportiva, ma in attesa dei nuotatori che arrivano all'arrivo. C'è anche il Crucilibro e invece con i proventi del Crucilibro sosteniamo i progetti di ASD Poseidon. La gara anche quest'anno vedrà quattro possibili percorrenze per dare ad un pubblico più ampio la possibilità di partecipare. La classica, dalla piattaforma Fratello Cluster, arriva, la doppia andata e ritorno, d'arrivo alla piattaforma, la mezza di circa tre chilometri e la 1500 sprint sotto costa. Il trofeo di nuoto Città di Pineto, che appartiene al circuito Adriatica Acque Libere, di cui è promotore, avrà luogo nelle acque antistanti dell'Idola Florida, a partire già dalle prime ore della mattina. Sono quattro manifestazioni di nuoto aperte a tutti. Lo scopo è abbracciare il mare e affrontarlo con tutta la sicurezza possibile, perché noi diamo importanza agli aspetti di sicurezza. Abbiamo l'appoggio della Capitaneria di Porto di Giulianova, la Capitaneria di Silvi, abbiamo il supporto della Croce Rossa, supporto in mare, soccorso in mare di Giulianova e tanti comandanti di imbarcazioni private che ci seguono e deve essere una festa. In più quest'anno ci sarà una piccola manifestazione nella manifestazione, che è dovuta a dei giovani pinettesi che navigano con noi, mentre noi a nuoto, loro con le loro piccole vele. E quindi ci supporteranno, ci affiancheranno e faranno da traino per i nostri nuotatori. Lo scopo è arrivare tutti sani, sicuri, nella maniera più tranquilla e possibile, divertendoci.